benvenuti nella nostra trasmissione qua abbiamo tanti ospiti interessanti tra i quali si ero mai fatti di tutti così quello che non capisco io e tu come hai trovato il coraggio tu come hai fatto a dire tutti questi stronzati dove l'hai trovato il coraggio ma io non so neanche perchè sono qua anche lui che c'ha proprio questo talento naturale per sparare le minchiate si lo fa ma tu dimmi come fai c'è ma non lo so ma va a farci tu cioè tu vai in televisione e come nulla fosse ecco ti rendi ridicolo infatti che tu racconta a tutti sempre di questi tamponi che ti fai ma alla fine a noi che cazzo ce ne frega comunque non c'è bisogno di parlare così perché io poi comunque mi devo imparare a fare i cazzo miei anche a me piace fare i tamponi lo faccio sempre ti faccio sempre e mi fanno bene come per esempio a te piace questo capo questo raggio ho capito un cazzo della tua coglia però io credo che non è giusto parlare così ora per esempio e tu che cosa ne pensi di questo ma secondo me non ragione loro perché io comunque non sono tanto bravo con l'intelligenza uso il cervello poco ma per compiace il tampone che arriva in testa e ti fa uno stimolo in più per poter capire meglio le cose perché uno si riflette poi ci pensa e dici ma che cazzo sto facendo ma però perché lo faccio perché lo faccio perché la salute che cazzo stai dicendo è una cosa veramente stupida ma lo stupido è che lo stupido fa ma allora sei proprio scemo appunto io mi sto vergognando beh Grazie a tutti